E bella ragazzi, eccomi tornato, sono GhostFrax, il nuovissimo mini-FuckYouTime, questo è l'ottavo E oggi, praticamente, stavo leggendo tutte le domande, no? Avevo iniziato a selezionare le domande carine da mettere nel video E poi mi sono reso conto che nello scorso FuckYouTime era pieno zeppo di domande un po' strane E quindi ho deciso di farci un video solo sulle domande strane Cosa che non capiterà più, quindi ora non bombardate di commenti solo del genere Questi sono i tipici commenti che non verranno mai presi in considerazione Quindi, praticamente, sono le domande più strane e a cui non si può dare una risposta Cominciamo subito Dunque, Edoardo Cesari Fuck, ma quanto sono belli i sandali di Papa Francesco No, di Papà Francesco Perché, evidentemente, tuo padre si chiama Francesco, caro Edoardo E non lo so quanto sono belli perché non li posso vedere Videogame Day Fuck, ma se una ragazza è mongolo e ne va fiera Cos'è, una mongolfiera? Ha, ha, ha Francesco Lisi, se tu fossi costretto preferiresti andare a letto con Omi o Johnny Creek Ma perché? Da chi dovrei essere costretto? No Tato, 1223, Frax, ma se studio su un aereo, capisco, al volo Non fa ridere, è carina, ma... no Multiminei, qual è la tua orientazione spaziale? È tipico trascendentale, apotropaica Ultimate Light 1 Fuck, boom, shakalakalakalaka Cos'è? Sick Wolf, fuck, ma se Alice guarda i gatti Gatti guardano le Alice? Perché? XT Danger ci fa la domanda più sconvolgente della giornata Ci chiede, che poi in realtà non lo chiede Lo afferma, neanche lo afferma Lo dice XT Danger Ragazza Omega Gamers Fuck No Alex Gamer 13 Ma se la mucca cade su Pina Pina muore? Ho voluto lasciare il pezzo finale Veramente la chicca che mi ha colpito di più All'ultimo L'ultimo veramente questa domanda che non è una domanda Sì, è una domanda Questa domanda veramente mi ha lasciato sconcertato Una domanda che mi ha cambiato radicalmente l'esistenza Da quando ero piccolo Poi uno cresce, si fa delle idee politiche, non politiche, così E poi arrivi dopo due anni di YouTube Quasi tre anni di YouTube E ti fanno questa domanda Ted's Monster Black Fuck Odii gli ebrei? Ma perché? Perché? Uno dovrei odiare gli ebrei Due Perché lo chiedi? Che cos'è? Cioè, pure se Metti che se uno odiasse veramente gli ebrei Ti viene a dire Sì, odio gli ebrei No, no, no Cioè, non li odio gli ebrei Ma che domanda è? Vabbè, io spero che questo Fuck You Time Vi sia piaciuto Anche se in realtà non si dovrebbe chiamare Fuck You Time Perché Fuck è Frequent Asked Questions Sono domande assurde Cioè, odii gli ebrei la prima volta che me lo chiedono Penso in tre anni Ma in vent'anni è la prima volta che me lo chiedono Però va bene così, insomma E quindi niente Lasciate un like A 6.000 like Domani avrete il nono episodio Con domande serie E domande normali Vi chiedo anche un oltre un favore Cioè, praticamente voi Prima di scrivere la vostra domanda qui sotto Vedete se qualcuno ne ha già formulata una Simile O comunque ha chiesto quello che Volevate dire voi E mettetegli mi piace al commento Così che viene tutto più facile E mi risparmiate due ore di lettura Di tutti quanti i commenti Da Cosfrax è tutto Ci sentiamo domani con il prossimo video Lasciate un like 6.000 per il prossimo Bella Bella